Come dire, spero appunto che questo appuntamento annuale si possa ripetere e niente, vi ringrazio tutti per la presenza, ringrazio il prodotto chiaramente per averlo organizzato, i fotografi l'ho già detto e spero di poter partecipare anche ai prossimi incontri. Grazie a tutti gli artisti che arrivano da fuori, quindi vi invito anche ad apprezzare il piccolo paese nonostante questo caldo, ma ci sono degli scorci molto successivi e molto belli se avete occasione poi di fare una passeggiata quando diventa un po' più fresco durante la serata. Il fotogruppo ormai ha questo concorso consolidato e riceve sempre molte adesioni da tutta Italia perché è un concorso di qualità, il materiale che mandano gli artisti fotografi è sempre molto interessante. Qua sono quello di oggi, mi hanno detto che hanno partecipato circa 80 persone, ci sarebbero dei premi da dare oltre i tre più menzionati, ma qui ciascun fotografo ha espresso al meglio quello che è la versione a colori e in bianco e nero di un'immagine, a volte anche inserendo qualche piccola variante, questa della sedia, della protesi, veramente geniale, come suggerimento. E poi tanti bei volti, tanti bei ritratti, tante belle immagini naturali, quindi c'è stata proprio la libertà di espressione e ciascuno fotografo ha porto quello che sapeva al meglio, insomma, rappresentare il suo stato d'animo. Grazie. Grazie.